buongiorno della famiglia brighella la famiglia brighella è in viaggio siamo in direzione lazise sono le ore 18 e 09 di venerdì 5 giugno temperatura esterna gradi 30 5 32 e niente stiamo andando a farci un bel weekend al lago di garda e scappiamo da questo caldo sperando di trovare un po più una temperatura leggermente più gradevole lì c'è il brighella piccolo qua c'è il moltone grande e dietro in fondo eccola la c'è la pelosa brighella quattro zappe ci vediamo dopo quando arriveremo a destinazioni arrivati brighella siamo arrivati abbiamo già fatto collezione adesso stiamo andando giù a fare due passi andremo un attimo in paese a prendere i giornali quelle cose lì e niente della camera magari ve la faccio vedere dopo quando è un attimo sistemata che non mi sembra il caso adesso e indira sì sì adesso andiamo un attimo dai fai la brava che papà è già giù che ci aspetta con ale bene dio cosa fai lì dire amore Eh? Amore, nu a ho c'è? Grazie a tutti. Eccoci nella nostra camaretta. Aspettate. Ok. Vi faccio vedere. Questa è la camera. Qua c'è il bagno. Ecco la mega doccia. Qua c'è tutto il mio casino ovviamente. Un mega specchio bellissimo. Non è che si capisce tanto. Ok, vediamo se riesco ad accendere una luce. No. Questa. Ok. Qua abbiamo il tavolinetto, il lettino di ali, l'armadio, scarpe, un mega divano. Qua abbiamo poi tutto il terrazzo che fa il giro. E il lettino. Maraviglioso. Clima manetta perché oggi si muore. E adesso andiamo giù a fare un po' di mutatine perché abbiamo fatto una mega camminata. Guardate, troppo bella sta dolce. Con il dispenser che c'è anche qua. Cioè, mai viste io ste cose? No, troppo bella. Ciao. Spegniamo. Ciao. 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 tienila in testa quella lì bene siamo pronti adesso scendiamo giù a mangiare avete visto che c'è anche il ristorante e poi forse andremo a fare un giretto giù in paese ma non credo perché è salito un vento allucinante e quindi non lo so intanto oggi ho preso anche un po di sole stamattina andando a camminare sono molto soddisfatta e vabbè ci vediamo dopo